Si torna a parlare di aeroporto sui Nebrodi. Il clamoroso rilancio della proposta giunge dal presidente del parco Giuseppe Antoci che ieri, durante la riunione dei sindaci, ha illustrato i dettagli di un itera già avviato per la realizzazione dell'infrastruttura aeroportuale su un'area privata di Caronia Marina. Abbiamo proprio in questi giorni fatto delle riunioni tecniche con gli ufficiali dell'aeronautica, con dei tecnici che hanno già partecipato alla costruzione di altri aeroporti siciliani. Abbiamo ottenuto proprio questa mattina, ora di pranzo, lo studio nella fattibilità dei venti che era quello necessario. Siamo nelle condizioni di poter dire che l'aeroporto di Nebrodi può vedere la luce, può vederlo in un sito della piana di Nebrodi importantissimo, adatto quasi nato per ospitare un aeroporto con la possibilità di piste di 1800 metri che possono far atterrare aeri come il Boeing 747 o l'Airbus che sono quelli che utilizzano un po' le compagnie locoste e che coprono 8.000 km e dunque voli internazionali. Il sogno di un aeroporto sui Nebrodi sembrava definitivamente tramontato nei primi mesi di quest'anno quando la conferenza dei sindaci riunita a Torrenova aveva provato a riavviare l'iter. Il progetto non aveva però superato lo scoglio della fattibilità tecnica con lo studio del sindaco di Ficarra, Basilio Ridolfo, che escludeva la presenza di siti idoni sul territorio. La possibilità di realizzare in un'area che fra l'altro era una delle ipotesi che avevamo anche previsto a Torrenova ed era stata appunto una delle aree caronia, uno dei siti di attenzionati. Quindi oggi apprendere che c'è il proprietario disponibile, il proprietario dell'area è disponibile a far sì che appunto in quest'area venga realizzato l'aeroporto e con tutte le condizioni, quindi già un primo studio, una prima fase attuata con le condizioni appunto che lo consentono, significa lavorare perché venga inserito nel piano regionale dei trasporti. È un aeroporto che dal punto di vista strategico è molto importante perché collegherebbe la nord-sud e quindi collegherebbe tutti i paesi dell'entroterra. Il porto di Santo Stefano di Camastra, il porto di Sant'Agata Melitello, il porto di Capodorlando, quindi l'area dei nebri, ha un fronte molto forte dal punto di vista infrastrutturale. Grazie. Grazie.